Quanto ragazzi sono tornati su Five Nights Christian Five Nights Christian Redes Warriors 3 Allora ragazzi sono incazzato No per essere tornato Guardate lì Squelio sta scritto Nike 2 Se uno scorso non si è arrivata la notte 3 Perché dovrò farmi la notte 2 Sono incazzato moltissimo da notte Sorten Sieg Long Sieg Paralysis Paradiso vorrebbe In mani paradiso Io la prendo proprio E' finito? Non so non riesco a capire Ma anche lui che lo sta dicendo Allora ragazzi Le serie di camera Non si possono vedere dove noi stiamo Cazzo era quella? Cazzo era questo qualcosa? Allora ragazzi Vorrei fare questo Una domanda Perché la carta igienica Non sta accanto all'accesso? Allora non si può vedere Si vorrà vedere Se le targhe Se le targhe Se le targhe Se le targhe Si vedessero Si vedrebbe la faccia Del Di Di questo qui Io ragazzi Stavo scoperti una cosa Che Yoshi mi spiegate cosa ci fa Yoshi? ho fatto un riposino stavo dicendo allora che cosa ci fa la fintigina sotto il lavandino? vorrei sapere questa cosa allora stavo dicendo che non ci può vedere la faccia di questo qui capito? non so se si vedrebbe chi è vorrei sapere una cosa cosa ci fa Yoshi qui? ha le pille cosa fanno? cos'è quello? se vorrei avere un bel bagno come questo però non ho questo è un bestato di queste cose di personaggi della nintendo che roba anzi io grazie game over sto cazzo ci ho preso un infarto ma c'era una pillola che culo grazie però cazzo torato Cosa serve delle telecamere, intanto ho capito come si fa Le telecamere non servono a niente Basta soltanto che si prendono le pillole Cioè Ashley, che cazzo ci fai Perché? Che ci fanno questi due qui? Cioè, devi muovere un cazzo Ma devi prendere un colpo Perché ti so di fare tre Ho preso un colpo Sapete ragazzi che sembrano Che quando prendo le pillole me le spiaccico proprio in faccia Probe Cioè come se fossero delle uova Le faccio Pum Spiacciono in faccia Adoro La pillola quanto ci vuole per questo effetto? Ma qui non sta ruvendo nessuno Ah, santo di Gesù Qui non viene nessuno Quindi che Caspita Guardate le telecamere Ma non ruvano nessuno Sto tranquillo Mi rilascio qui Perché quando sta ruvendo nessuno Ste pillole, madonna Tanto paura Il paralisis Io non lo prendo proprio Mi sa che Succederò come ci sono Le quattro notte Qui non ha ancora ruvato nessuno Le quattro notte La cosa cosa faccio Lo so Ho preso una strana pillola Pasciamo a vedere Se sono quattro però credo che quando so durmo tipo c'è Ashley che mi vuole mangiare crassona crassona e poi non guarda che si chiama Ashley non lo capito però credo che si fa Yoshiko cosa cazzo è successo? perchè ha fatto puttana troia ha perso un colpo è bello che senti i rumori del cuore che spazza c'è solo 5 minuti avevo detto che la parra di Sis non ce l'ho a prendere perchè se lei non ho visto più niente chi è queste sei? forza sono 7 camicie dai cazzo forza c'è più poveri di ferma la mano è scazzato il mouse non si muove più niente che bella allora ragazzi io vorrei vivere in una casa bella però non dormire in questo letto c'è allora queste queste cose qui quelle da sopra c'è vi addormentere i rumori di trap i cani che urlano le macchine che passano tutta la gente che urlano boom 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 è caduto addosso anche il soffitto e quel soffitto mi piace proprio niente solo ma che cazzo di ma c'è ragazzi le registrazioni di queste qui sono cose registrate dai creator di sto gioco ma hai creato di sto gioco che problemi hanno a mettere le chiamate che io infatti che io infatti e Thomas manco metto le chiamate che io infatti e Thomas manco metto le chiamate allora sciscio lisis e questo non sembra nooo perché dovreste mettermi Mario gli altri ci staranno allora stai saltando tu sarebbe bello stai saltando tu però non ci staranno soltanto le altre notti Mario, Luigi Luigi e Wario e Wario 2 però ci staranno lo stesso allora stavo scendo non mi guardo se l'ho già detto se l'ho già detto beh questo gioco c'è c'è un finale segreto un finale segreto che fa vedere la fine di Wario Mario Luigi e e guad luigi e già poi qui staranno guad luigi guad luigi mario che sono amici sti quattro poi anche la pianta certo poi anche la tartaruga tutti staranno e brose brome cazzo dice ancora non capito e ora cazzo mi spiegate una cosa come faccio a levarmi lì dal cazzo cosa cazzo era quel coso che cazzo ci fa king kong qui vabbè grazie per questo gioco ma metti pure questo qui certo ma non lui per favore tutti ma non lui spero che a me non facciano un fine attuario 4 se fanno fnau 4 dice così io a mazzurrare sto gioco allora grazie una di quelle strane torce lì ragazzi tre si sono fulminate ma chi è sto tablet si è rotto no king kong una paura rotuzzi ma potremmo ritrovarmelo qui oh cazzo che culo lo so salvato 5 di notte ok allora vorrei che forse abbia un video stanotte si forse te scatta non lo sai c'è manca un jumpscare e se mi minazza caro oh come via il culo ok questo guarda che cazzo no come terza notte no ragazzi capito una cosa agli altri tu stai zitto agli altri hai fatto il tuo gioco la prima la seconda terza notte la quarta e la quinta gli va sempre bene devono fare soltanto una stanza mi sa che a me le devo fare proprio tutte quante le stanze tu mi stai prendo per il culo quindi ragazzi credevo che quella terza notte vorrei superata però questa stanza mi sembrerà bella vabbè facciamo un tentativo solo uno per vedere cosa succederà per aver capito che metto le mani qua come se allora poi mi lasconderò da war che mi vorrò a prendere non so se ci sarà war qui ci sarà pitch per forza anche todd però adesso facciamo stanotte mi sto prendendo in giro questa notte la farò nel prossimo episodio per ora lascio perdere ho troppa paura di mario questa notte non dormo più nessuno grazie al suo gioco ho capito che non devo più entrare nel bagno senza pillole 6.000 vabbè ci hai piaciuto un mi piace un commento iscrivetevi al canale e ci facciamoci a te tu morri ciao